Nuova sfida, suona una cannuccia, ok. Ho passato qualche ora a cercare di far suonare queste cannucce come un flauto di pan. Sfortunatamente hanno un buco troppo piccolo, quindi indirizzare l'aria per far uscire il suono era quasi impossibile. Dopo una notevole quantità di fallimenti, ho pensato di ispirarmi al funzionamento di un oboe. Per tutti quelli che non lo sapessero, l'oboe suona grazie a due ance messe in questo modo, che messe in bocca, vibrano. Al concetto teorico a farlo con una cannuccia, però, ci vuole un po' di lavoro. Tanto lavoro. Innanzitutto ci tocca appiattire una delle estremità della cannuccia. Una volta appiattita un'estremità, ci servirà a ricavare una punta per far sì che esca il suono. Devo ammettere che sto andando un po' a caso. Dopo aver ottenuto una cosa più o meno simile, avremo il suono. Adesso non ci resta che fare una serie di buchi come fosse un flauto. Non suona bene, però figo.